Ci siamo trovati in mezzo a un'onda praticamente, quindi eravamo un po' impanicati tanto. Poi avevamo anche una cliente dentro, un'anziana, che non riusciva ad uscire perché avevamo l'onda proprio davanti all'entrata. Ho avuto l'istinto di mettere le tavole, non so come siamo riusciti a metterle anche in quel momento lì, però poi abbiamo dovuto far salire la signora da queste travi che mettiamo. Perché la zona, oltre ad essere pericolosa, è anche allagabile e oggi è successo quello che nessuno si poteva aspettare. Sono 12 anni che sono qua in negozio con mia moglie, che abbiamo aperto qua, e in 12 anni, fra lavori delle fibre, lavori idrici, lavori dell'Enel, lavori di questo e lavori dell'altro, non si può sempre bucare una piazza per 12 anni. Questo io penso che sia anche la conseguenza. E che a questo punto voi dovrete chiedere per forza dei rimborsi anche per la vostra attività, avrete dei danni? No, quello sinceramente è il minimo, perché io tanto qua penso che questo la chiuderò. Io mi sono arreso, perché io posso capire gli agenti atmosferici, io lo sapevo questa zona è una zona allagabile, e quello è un discorso. Ma che succede una cosa del genere... Non ce lo potevamo mai immaginare. Io questo qua getto la spugna, mi arrendo, perché non posso stare con questo. Ora perché poi i lavori che saranno qua saranno lavori non lunghi, lunghissimi. E cosa faccio? Cosa facciamo con questi anni qua? Cosa faccio le focacce per mangiarmela io e mio figlio e mia moglie? No. Grazie.